salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto alcune novità riguardanti il mondo dji come sapete è imminente il lancio del nuovo dji air 3 questo drone che si va a porre tra il dji mini 3 pro e ovviamente il dji mavic 3 e questo dovrebbe essere un drone che dovrebbe pesare meno di 500 grammi ma più ovviamente di 249 grammi quindi si pone proprio in mezzo ed è un drone che ha caratteristiche sicuramente interessanti ma di quello che volevo parlarvi oggi non è solo delle caratteristiche che ovviamente l'ultima novità trapelata è la doppia fotocamera quindi è una novità importante oltre ovviamente ai sensori anticollisione che si vedono anche nella foto che poi sono i sensori di ultima generazione quelle a occhio di pesce che sono montati anche sul mavic 3 e poi è trapelato anche il prezzo o meglio sono trapelati due prezzi due prezzi per le due versioni fly more combo cioè il radiocomando classico quello senza display ma nella nuova versione è questa more fra il combo con il radiocomando chiamiamolo così classico senza display dovrebbe costare 1127 euro e poi è trapelato anche il prezzo della versione sempre more fly combo ma con l'rcn2 perché come sapete anche il radiocomando con il display sarà aggiornato ad una versione 2 ed il prezzo per questa combinazione è di 1294 euro quindi questi sono i prezzi con le versioni con i due radiocomandi ed entrambi in more fly combo perlomeno il prezzo che si suppone che venga rilasciato da dji e poi una novità interessante trapelata oggi o meglio una foto è trapelata oggi ed è una foto anche molto definitiva quindi non è una foto di un drone diciamo camuffato di un drone un po prototipo no è praticamente la versione definitiva sembrerebbe del nuovo dji mini 4 pro si praticamente il drone come vedete rimane molto simile al precedente per quanto riguarda la sua fisionomia quindi la sua estetica è molto simile ma si notano subito i nuovi sensori anti collisione ad occhio di pesce cioè gli stessi montati su air 3 e mavic 3 quindi sicuramente questa sarà una delle novità di questo nuovo dji mini 4 pro che ragazzi vedendolo così vedendolo già in che stadio avanzato è non dovrebbe secondo me mancare tanto all'uscita perché veramente è in uno stadio avanzatissimo se questa foto è reale e non è fake e non dovrebbe esserlo ragazzi davvero probabilmente tra poco tempo saremo qua a parlare appunto del nuovo dji mini 4 pro quindi ragazzi questo era solo un video per darvi queste ultime informazioni per quanto riguarda il mondo dji per quanto riguarda ovviamente i nuovi prodotti in arrivo a breve per quanto riguarda l'air 3 e in arrivo secondo me anche questo tra non molto il dji mini 4 pro se questo mio video vi è piaciuto l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità anteprime spoiler quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo instagram sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni ma tutta la tecnologia in generale lì ecco di coupon sconto più vantaggiosi e con le offerte più vantaggiose soprattutto di amazon ma mi raccomando ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial una novità come questa ciao al prossimo video